a quello della Premier e il Movimento 5 Stelle a sua volta resta inchiodato a quel centesimo di distacco dalla doppia cifra 9,99 che sembra, non voglio essere minimamente irridente, quei prezzi che vengono dati nei grandi magazzini per non farti credere che stai spendendo troppo ma questo è proprio il contrario e però avendo visto, mi permetto di fare una previsione perché avendo visto la progressione che è partita da 9,80 ed è sempre stata in crescita penso che il Movimento di Giuseppe Conte arriverà al 10% e comunque l'arrotondamento sarà e comunque nella memoria quello